Il sindaco oggi è una giornata clou per Castiglion Fiorentino, si comincia presto questa mattina e si arriverà in serata. Io intanto devo ringraziare Sua Eccellenza il Vescovo perché il fatto che ci sia il sindaco al Pagliudrione è una cosa normale, è una consitudine, è un atto dovuto. Mentre invece il fatto che a onorare questa festa in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio, credo per la prima volta in assoluto ci sia il Vescovo di Arezzo, credo che sia qualcosa che davvero lusinga la città e rende onore a questa festa. Vivere il clima di festa, di gioia, di partecipazione di Castiglion Fiorentino è davvero una occasione unica.